Allora, sto perfezionando il corridoio che serve a far traslocare gli uccellini da una gabbia all'altra. Sto facendo una specie di corridoio snodato. Ho preso questi nidi per canarini, ho tolto le porticine, che posso utilizzare aprendo dei varchi dove ce n'è bisogno alla voliera o una gabbia, per esempio. Sappiamo che non ci sono mai abbastanza varchi, quindi queste si riutilizzano anche perché porticine come queste, come accessori, non te le vendono. Vendono quelle con la molla normale per gabbia da canarini, diciamo, ecco. Quindi ora con le con le fascette, vedete, li legherò qui, qui, qui e all'altro lato, in modo che siano snodati. C'è il problema dei nidi che era meglio se ci potevo una grata sotto, potrei farlo, ma al momento mi accontento di questo. Poi quando avrò una grata e farò dei quadrati, toglierò i nidi e metterò la grata. Per ora può andar bene anche questo perché poi come passaggio loro ci passano benissimo, insomma, è ininfluente il fatto che ci sia sotto il nido. E basta. Volevo farvi vedere questo. Queste sono le fascette metalliche, ne bastano quattro, una qua, una qua e due dagli altri lati e abbiamo un corridoio snodato praticamente. Bene, ciao.